Ciao ragazzi, benvenuti sul canale AS Roma, sono insieme al nostro amico Insa, al nostro amico Palmieri Pendegrini Con l'occhiorino E poi vabbè ci sono tutti gli altri dietro che fanno il tifo E oggi faremo una partita 2 vs 2 su FIFA Contro? Contro di me e il mio compagno, ovviamente cercheremo di pilota o c'è un ragazzo Passo la parola al nostro amico Insa che adesso vi spiegherà bene cosa faremo Allora ragazzi, noi semplicemente siamo due coppie, la prima composta da Meluilli e l'altra composta da Abrazzo Vabbè la coppia è brasiliana c'è sta Coppia italiana e coppia brasiliana Faremo un 2 contro 2 nel testa testa, saremo in cambio ovviamente da AS Roma Cercheremo ovviamente di vincere perché l'obiettivo è vincere, ma te l'altro Guarda sul canale mio è successo qualcosa proprio di assurdo Sto ancora piangendo Sul canale mio è successo qualcosa di assurdo perché dovete andarlo a vedere per forza Perché qua, questa coppia qui, sono veramente forti Infatti adesso vediamo chi ha già più forte, se hai te o non è lui più forte Si è scoperto che lui gioca tipo Sapeva come battere i coloi A posto Quindi ragazzi, lasciate tanti like, commentate qui sotto Scrivete chi volete un prossimo video Tra i commenti, lasciate tanti like, condividete questo video E buona visione, partiamo Bravo No, 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 calcio E andiamo E' gol Ma che gol l'avevi fatto? Tanto ha tirato e ha preso come l'avevi spinta lui Ma che gol ha fatto? E' gol E comunque ci hanno distratto, hanno detto Che faccio tiro, si, poi hanno passato vicino Sono tattiche, quindi sottovoce gli faccio vasta la passo Oh, no, 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 ok Sono noto Ti dai Dai E' una persona ha salvato una partita Chi è la che ha fatto il 4? Che burro Hai fatto tutto bene No, questa no Non ci credo Non ci credo Mamma che coppia, andiamo a giocare Torni assieme Vacazione, come si dice Vabbè, vabbè 2-0 Si vola No 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 Fatele cambiare spettacolo Volevamo andare in vincere Ok ragazzi, per me siamo riusciti a vincere 4-0 Che dici peraltro? Che devo dire? Noi siamo stati bravi Guarda il gol che hai fatto No, no, hanno giocato bene E' stata una partita abbastanza tesa Anche gli ultimi giocati abbiamo fatti asin Eh, vabbè Quindi è stata una bella partita Fateci sapere nei commenti Se volete la rivincita E chi altro volete vedere Nelle prossime Guarda, Emerson è forte Sei bravo Guarda, è bravo No, no, non sono stato in grado di mantenere Non è la tua giornata Non è la mia giornata Ci sarà la prossima Ci sarà sicuramente Passate anche negli altri canali Ci saranno altri video Trovate i link in descrizione Fateci sapere cosa ne pensate Lasciate un like Iscrivetevi al canale di Roma Per oggi è tutto E Bella a tutti ragazzi Al prossimo video Ciao E Forza Roma Forza Roma